non si è stato coccorish mi fechis ma se fai andromeda ancora io non ho guardato un bel vipio non ho guardato un po' spettacolo No mmmm, verano un po' di gioco No Sì. 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 E anche ci sono anche un pochiazzetto. Sì. Sì. Stand a s€ che ha comunque. Sì. Si increasesse l'ultimo! Sì! Sì. Unisimo! Ah, la sconchietta la fine. Ok, Rimnant vault, andiamo a fare questo posto e riuscire. Sì, ha avuto l'attività di potenza. Siamo in attivare il console e attivare la purificazione field, Pathfinder. Non c'è la scuola. Grazie a tutti. Ci sembra che c'è un triccio in questo interno. Sì, vabbiamo a farlo. a me si coda la mamma You can hack the turret, Pathfinder. You can hack the turret. Turret nearby, Pathfinder. Hand it down. Hm. Van egy másik bejárat is, arra begyíg. Grazie a tutti. 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 This console. Grazie a tutti. Oh no, oh no, oh no Ehm... This console will activate the purification field You and I want to sweep the area What is the mystery to kill us, you mean? Hey, get ready to run Here I come! Go, go! You're not happy with us Come on, sir You're not happy with us This console will activate the purification field You may want to sweep the area Where this police tries to kill us, you mean? Okay, get ready to run Here I come! Go, go! You're not happy with us Here I come! Non c'è l'amore, non c'è l'amore, non c'è l'amore, non c'è l'amore. Non c'è l'amore. Non c'è l'amore, non c'è l'amore. 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 Quindi... Ha, l'zart, su dove ho fatto? Ho sinto la piacce, a cop船. Il si è riuscita a noi, si riuscite! Il si è riuscita a continuo I'm going to go my X-ray, let's just go my X-ray. This console will activate the purification field. You may want to leave the area Or this minister is to kill us, you mean Hey, you're ready to run Here it comes, go, go They didn't like that Oh, my God They hit Liam! It's closing in on us, move! Just keep coming Oh, fina, man Man, never gets less terrifying Let's get out of here I'll find a rider Are you there? All our instruments just recorded a surge What happened? All smacker He did it That's a jest It can't be That's not a jest The vault going through a reset would explain all the readings I can't wait to hear all about this Come back to Palab We've a lot to discuss Thank you grazie Grazie a tutti. 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 Duplo. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Malo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 e tutti. Passa un rai d'acqua. Sì 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 Grazie. 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 I'm fent on a container. Ha, ha, ha. Ne, hajt túlugra te rajta. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha. Ha, ha, ha. non è sicuro che fai tutto un po' da un momento Ah Come fu alla rola di ultimo, non credo 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 bravo, non lo sai questo no Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero, è vero. Sì, è vero. Sì. 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 ... 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 Eccolo SILT BUSTE ENABLE Sì! Go team! Sì! perciò non, stop chiamato No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... 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 3.000 credit. Grazie. 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 E' una volta che ho avuto l'abbiamo con l'optimizzazione. ora non c'è cosa che c'è c'è a più c'è c'è A presto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Tornati. Grazie a tutti. ...reporto in hydroponics. La sicurezza è investigata. La mutinia è venuta bene come potente. Molto violenza. E poi, dopo averne vissuto la stazione, il Krogan ha chiesto di più potere? No, 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 no. ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Voi stessi parecchi. Sì, papà, è vero che succede. Sì, sì. Quindi, ehm... Mi sento che l'Allianza ha un nuovo Mako in la città? Sì, chiedono che potranno airdropare questo da un paese. Sì. Sì, dicono che potranno un'altra per la prossima spedizione. Voi ancora provare l'attica in Traverse? È incredibile. Credo che abbiamo trovato un sito Prothean. Non c'è ancora più artefatti, ma stiamo ancora iniziando. Ah, ricordo il giorno che hanno trovato i primi ruoli sui Mars. Chiava mia vita. Abbiamo sicuramente che le alieni erano reale. Sì, abbiamo bisogno di trovare loro. Sì, ogni giorno che ho risposto, guardo un mass effect relay e mi stia pensando... Cosa è sul l'altra parte? Non perdere l'altro. Il momento che tu stai spiegando di cosa è più oltre il mountain, tu ti stai un po' insieme. Noi chance di questo. È in la nostra blood. Tu infatti la nostra. ... 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 I'm Dr. Liara Tassoni And I've spent several decades researching ancient Protheans It is common knowledge that the Protheans were an advanced race That flourished in the Milky Way about 50,000 years ago Then went extinct Even at the time of this writing The year 2182 Their culture remains a mystery During my studies I have developed some practices that can be used when analyzing any ancient culture I hope they may prove useful for the research community Printed books? Reproductions of Lewis and Clark's journals Detailing their expedition in the 19th century Explains Dad's interest They were Pathfinders too When studying an extinct race It is important that our preconceptions and current knowledge not color the facts We must look to the evidence itself The Protheans constructed the citadel And an incredible network of mass effect relays This speaks to a culture of the highest order Such a monumental achievement surely must come from an enlightened race That was in harmony with its people Free of conflict and strife Without the ability to study a living example, however This can never be determined with 100% accuracy This can never be determined with 100% accuracy In fact, a human error The Entry, Greece The Entry The Entry But the Entry The Entry The Entry